Allora, non vi dico in anticipo i ragazzi che suoneranno nell'ensemble perché potrebbe arrivare la polizia da un momento all'altro e quindi magari, se non dico i nomi, magari non verranno schedati, poi magari vediamo alla fine, insomma. E a questo punto, ecco, sono due brani, una medley, si dice così in inglese, e in italiano è, boh, non lo so, e praticamente sono due brani di Ornette, il primo è Search for Life e barra Roundtrip. Io spero che vi piaccia, che vi divertiate, che siete ancora svegli, ragazzi, siamo quasi alla fine, quindi direi che possiamo iniziare le danze, quindi sotto a chi tocca, spero che qualcuno entri da un momento all'altro. Abbiamo bisogno del pianista sempre. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti